uno degli elementi che più è simbolico del mondo degli effetti visivi è il green screen quel telo verde quell'enorme immagine verde che ci dà l'illusione che di poterci trovare all'interno di qualsiasi mondo di poter mettere un oggetto in qualsiasi mondo ne vogliamo ma la domanda viene spontanea da dove nasce questo gris screen da dove nasce questo gris screen chi lo ha inventato e perché a volte vediamo il blue screen quindi uno schermo blu invece che verde beh a tutto c'è una spiegazione partiamo dagli albori il grande innovatore che ha trovato le tecniche per poter scontornare un elemento e quindi realizzare il chroma key è Petro Vlahos ed è grazie a lui che è stata inventata la tecnica del chroma key chroma in inglese significa cromaticità quindi parliamo di colore e key sta per chiave quindi stiamo parlando di una chiave di colore che cosa significa una chiave di colore significa prendere quel determinato colore all'interno di un'immagine ed estrarre solo quel colore solo ed esattamente quel colore quel colore estratto tutti gli elementi estratti di quel colore formano una chiave per quel colore poi nella tecnica del chroma key quella chiave estratta viene viene sottratta all'immagine così che noi avremo la nostra immagine con quel colore sottratto ed è così che nasce il chroma key gris screen o blues screen ma un'altra domanda importante è quale nasce prima il blues screen o il gris screen beh in realtà all'inizio era lo yellow screen infatti nelle prime lavorazioni quello che veniva utilizzato era uno schermo totalmente giallo infatti abbiamo dei reperti storici che ci raccontano che all'interno ad esempio di film come Mary Poppins venivano utilizzato uno schermo giallo per realizzare il chroma key questo perché dopo l'immagine veniva proiettata su un prisma e un prisma appositamente costruito che il prisma non è altro che un vetro che ha delle proprietà ottiche dove da un lato lanciava tutte le chiavi cromatiche del rosso del blu e del verde dall'altro lato solo quella del giallo e quella del giallo veniva intercettata e registrata su una pellicola e così facendo si otteneva una chiave che poi veniva utilizzata per scontornare la pellicola residua quindi quella lì quella lì registrata ed è così che nasce il chroma key giallo ma subito dopo sempre grazie a Petro Vlanos nasce il bluescreen perché blu perché si era notata una determinata reazione chimica sulla pellicola quando avevano il quando si aveva il colore blu durante lo sviluppo chimico di una pellicola avvengono tantissime lavorazioni e tantissimi processi chimici e quella sul blu lasciava uno strato molto più leggero di pellicola quindi era molto più facile eliminare quell'ulteriore strato proprio letteralmente per bucarlo e da qui che nasce il primo bluescreen poi a mano a mano le tecniche sono cambiate ed il blu è rimasto all'interno della lavorazione fino ad arrivare agli anni 70 con Star Wars dove le lavorazioni erano comunque manuale ed analogiche ma molto ma molto molto più raffinate fino a poi ad arrivare al gris screen ma perché esiste il gris screen e perché è gris screen beh viene utilizzato lo schermo verde da quando esistono le camere digitali le camere digitali sui loro sensori che acquisiscono l'immagine hanno una matrice di pixel quindi un tot di pixel che acquisiscono le immagini e questi pixel sono composti da tre punti fondamentali il pixel blu il pixel rosso il pixel verde e il pixel per la luminosità ora il pixel per la luminosità è di colore verde perché il verde è quello che riesce a portare più informazioni sulla luminosità quindi noi sul nostro sensore abbiamo un pattern che è detto pattern bayern che porta con sé un pixel blu un pixel verde un pixel rosso un pixel verde dove uno dei due pixel verdi serve a trasportare la luminosità ed è per questo che viene utilizzato il verde perché il verde è il colore meglio registrato dalle macchine digitali dai sensori digitali grazie a tutti grazie a tutti